Oggi una delle grandi possibilità che abbiamo è quella di unire le forze, quindi avere più strumenti a disposizione per migliorare la qualità della vita delle persone. Proprio per questo, grazie al nostro comitato scientifico, abbiamo istituito una scuola di alta formazione su epigenetica, medicina funzionale, nutraceutica, nutrizione nell'era dell'inquinamento, per poter dare tutte quelle informazioni necessarie al miglioramento della qualità della vita delle persone. Voi pensate che oggi sempre di più sentiamo parlare di problemi solo quando è troppo tardi. Noi dobbiamo parlare di prevenzione, dobbiamo assolutamente incominciare a lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, dobbiamo parlare di riprogrammazione, di epigenetica e questo lo possiamo fare solo se siamo formati a una nuova consapevolezza, quella di unire più strumenti, più possibilità di intervento grazie a professionisti che già lo stanno facendo. Scuola di alta formazione a ottobre, 7 weekend di pura formazione sulla medicina centrata sulla persona.